Ed in occasione della giornata mondiale sulla salute mentale, un Open Day è stato promosso nella struttura di riabilitazione inaugurata nel maggio scorso nel comune di Barano. Ci troviamo sull'isola d'Ischia. Marco Martone. Un Open Day organizzato a Barano d'Ischia in occasione della giornata mondiale della salute mentale. L'evento si è svolto presso la Casa del Sole nel comune isolano. Un giorno di solidarietà e riflessione caratterizzato da alcune frasi scritte sui manifesti affissi alle pareti della struttura. Le medicine non bastano, bisogna essere ascoltati, sostenuti e visti come persone che soffrono e non da evitare alcune delle espressioni sintomo di un disagio sul quale è bene non mostrare mai indifferenza. La Casa del Sole è una residenza psichiatrica diurna e notturna destinata all'assistenza e alla riabilitazione intensiva dei pazienti della salute mentale. Qui gli utenti, oltre alle cure del caso, sono impegnati in tante attività, tra cui la pittura e la musica. L'Open Day è stato dunque anche l'occasione per aprire alla collettività l'inclusione e all'amicizia. La struttura lavora sostanzialmente su due canali, uno di tipo assistenziale con infermieri ed operatori sanitari, l'altro riabilitativo che prevede anche un'assistenza psicologica. Un presidio di fondamentale importanza anche in virtù dell'indagine del centro di riferimento per le scienze comportamentali e la salute mentale dell'Istituto Superiore di Sanità, secondo cui sempre meno persone con sofferenza mentale vanno in cura presso i servizi dedicati e la pandemia ha acuito questa tendenza.